Abba, ghimmi ghimmi ghimmi, 809, il nostro Crystal History. Molto denso oggi. Beh sì, ma poi il pezzo finale penso sia stato campionato da chiunque abbia fatto musica nelson negli ultimi 40 anni, quindi davvero un grande pezzo. Quest'oggi allunghiamo un po' il momento degli ospiti, è venuta a raggiungerci un graditissimo ospite, stiamo parlando di Elisabetta Roncati. Buongiorno Elisabetta, benvenuta a Good Buongiorno a voi e grazie, grazie per l'opportunità. Allora Elisabetta, tu sei famosa sull'Instagram, sull'Internet, come dicono quelle da mia età, perché sei una influencer di arte, un art influencer. Con tutto il peso che ne deriva, devo dire la verità, soprattutto in tempi di caccia alle streghe come questi, per giusti motivi. Adesso ne parliamo, in nome d'arte, in questo caso mai sei la parola più giusta, il tuo nickname su Instagram è Art Nomad, Anzi, mi hai detto che in realtà è francese, quelle parole che puoi leggere un po' in maniera o nell'altra. Art Nomad Milano, giusto? Milan. Milan, giustamente perché sei francese. E appunto tu racconti di arte. Prima di partire però, e anche soprattutto di raccontare poi anche di un libro che hai scritto, che ha a che fare con l'arte e il mondo queer, giusto? L'arte queer l'hai intitolato, scusami. Dobbiamo però fare una precisazione, perché si parla spesso di hate speeching, di violenza fuori e dentro la rete, di violenza di genere e tutto, è successo anche a te. Diciamo che, ahimè, dobbiamo raccontare un po' questa storia. In questi giorni sei un po' sotto attacco, da pochi noti, per fortuna non sono molti, ma quelli pochi fanno male. E anonimi, immagino, soprattutto. Ovviamente, ovviamente, perché quando si cerca di colpire una persona, ahimè, non si ha molto spesso il coraggio di farlo col proprio nome e cognome. Poi online, figuriamoci, questa è un po' la prassi dei cosiddetti, come hai detto anche tu, Leoni da tastiera. E tutto è partito da un errore, perché è stato prodotto praticamente un articolo con delle informazioni sbagliate, che è stato prontamente corretto, ma sembra quasi stata una scusa, un po' per cliccare, visto che gli influencer, giustamente, come dicevamo prima, stanno sotto l'occhio del ciclone, soprattutto alcune figure per determinati truffe, perché ciò è che hanno fatto nei confronti dei consumatori. Io non ho truffato nessuno, è stata un po' la scusa sicuramente per dare contro a una donna, ahimè, ne dobbiamo ribadirlo, perché non possiamo nasconderci dietro un dito, ormai perisce una donna al giorno, e poi anche per il mio impegno, sono fra virgolette un personaggio scomodo, io mi impegno a favore della comunità LGBTQIA+, e quindi quando magari per qualche like in più, per qualche click in più, si scrivono determinati pezzi o si fanno determinate esternazioni, non si calcola prima che cosa ci sta dietro. E comunque una persona che fa attivismo, nel momento in cui si scatena una forma di odio, ahimè, si dà voce e si dà diritto all'online, nascosto, come dicevamo, sotto falsi profili, di insultare, addirittura mi hanno minacciato di sfregiarmi con l'acido. Sì, no, infatti tu hai pubblicato quel commento che fa capire tutto un po' di quello che stiamo dicendo, e anche del perché uno magari non riesce poi più a passarci sopra. Cioè, nel senso che uno dice, va bene, ma si dai, va bene, ma si dai, quando arrivano certe cose io sfido chiunque di noi a passarci sopra. No, più che altro sai, uno pensa sempre, ma sono commenti che lasciano il tempo che trovano, sono i leoni da tastiera. Il fatto è che vediamo quanto il ritardo nelle denunce, soprattutto nell'ultimo caso di Vanessa, che è successo in Veneto veramente un giorno fa, dare poco peso a una denuncia, ahimè, a volte porti all'atto gravissimo, porti alla morte. E uno non può saperlo, le forze dell'ordine in quel caso hanno addirittura, a quanto pare, dichiarato che non avevano dato l'importanza giusta e non avevano agito prontamente di fronte alla denuncia. Il discorso è che poi ci pensiamo sempre dopo, uno a priori non può sapere come va a finire, non può sapere se finirà in un non nulla, oppure se uscendo dalla porta di casa verrai aggredito o aggredita. e quindi quando accade bisogna agire subito. Sinceramente fosse stato anni fa, anch'io sarei caduta nell'errore di non dare seguito, di dire lasciamo perdere, sono profili falsi, ti fanno male, perché male lo fanno. Siamo sotto Natale, dovremmo essere tutti più buoni, guarda che cosa siamo diventati. Dovevamo uscirne migliori dalla pandemia, non era così. Non era stato questo. Non avevo mai creduto. Non era stato così. Poi l'assurdità di tutta questa cosa, se già così non fosse assurda, è che oltretutto tu vieni attaccata per la tua vicinanza alla comunità LGBTQI+, ma in realtà tutto parte da tutt'altro, da un errore, come dicevi tu, fatto su delle date di un artista che ha fatto una mozza. Errore come ne vediamo tutti i giorni facendo una stampa. Errori che vediamo fatte su grandi testate giornalistiche e che io e te facciamo ogni tre minuti. Nel senso, per fortuna, per fortuna siamo uomini. Mi viene anche da dire questo, forse. Sì, è facile attaccare una persona giovane, è facile attaccare una professionalità che adesso viene molto googlata online, perché c'è da dire anche quello, ma non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. E soprattutto, come dicevo, prima di lanciarsi in delle esternazioni, bisogna vedere anche il trascorso di una persona. Lo vediamo a volte con delle personalità, tipo Roberto Saviano, vengono attaccate, ma uno poi non pensa a dire sì, sto attaccando questa persona, ma cosa può succedere? Che trascorso ha questa persona? Lo posso mettere magari, non bisognerebbe attaccare nessuno per partito preso, però se attacco quel determinato soggetto, che cosa scateno? Qual è il suo retroterra? Che cosa può succedere? Elisabetta, mi sa che ti chiedi troppo da certa gente che forse non riesce neanche a distinguere una E accentata da una E senza accento, da una con l'acca forse, mi viene a dire, è un po' complicato che riesca a fare questo ragionamento. Poi i leoni da tastiera sono dietro l'anno. Direi però di chiudere qui l'argomento, perché invece sei qui per raccontarci delle cose belle, sei qui per raccontarci, di parlarci di arte, ma so butto del tuo libro, lo facciamo fra pochissimo, subito dopo, con la pesce di Martino, con, non è proprio arte, però è sesso e architettura, dai, non sono andato vicino. È un titolo molto particolare. Sì, però ho cercato una canzone che potesse in qualche maniera, no, non so, non c'entrava niente, però mi suonava bene il titolo. Penso sia dedicata alla Bovisa, visto che c'è il Politecnico, vanno tutti in giro con i modellini. Può essere per quello. E il sesso? Sì, tu quello. No, perché la Bovisa ha una fertilità molto grande. Pensavo che tu fossi il sex symbol della Bovisa. Certo, certo. E allora, dalla sex symbol della Bovisa, Lorenzo Masieri, salutiamo con la pesce di Martino, con sesso e architettura. Con la pesce di Martino, alle 8 e 19 minuti, su Crystal Radio, Good Morning Milano. Ricordiamo sempre il numero a cui potete contattarci. 331-78-535-555. Tanti whatsapp vi state scrivendo. Grazie per la compagnia che ci fate ogni mattina e grazie a voi per farci entrare nella vostra routine quotidiana, soprattutto la mattina. Noi siamo quelli del lavaggio dei denti, del scegli che calzini metterti. Noi siamo quelli lì. In quel momento lì siamo insieme ai nostri ascoltatori, quindi dobbiamo ringraziare. Anche momenti peggiori, probabilmente. Non volevo citarli, però sì. Probabilmente anche momenti peggiori. anche momenti peggiori, in cui magari li aiutiamo, però. Siamo così bravi che riusciamo a aiutarli anche in quello. Invece sicuramente è bravissima, perché l'ho conosciuta, devo dire, l'ho conosciuta da poco, ma mi ha affascinato per quello che fa, per quello che dice, per quello che racconta. Ci siamo già collegati. Tra cui, diciamo che già collegati, ci siamo visti anche in alcune situazioni. Nel corso dello speciale di Santo Andrò. Sì, sì. Bravissimo. Ma come eri attento? Ero qua. Ero da un'altra parte. Sarà mai tanto dormi, lo so. Ma Elisabetta, il nostro ospite, Elisabetta Roncati, ha scritto anche un libro, appunto, che vogliamo oggi raccontare, di cui dobbiamo però un po' spiegare il titolo, nel senso che allora, Arte Queer. Cercherò di spiegare a noi, poveri immortali, cos'è il queer. Allora, in realtà, è un termine che, se andiamo a analizzare linguisticamente, arriva dalla lingua tedesca. Ok. E ha il significato di obliquo, trasversale, quindi non in linea retta. È stato poi assunto dalla lingua inglese e soprattutto veniva usato, vedi anche qua una bella storia di rivalsa, veniva usato come un termine di scherno nei confronti degli appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Ah, ok. Per definirli come, fra virgolette, non normali. appunto divergenti, obliqui, che non si comportavano come si sarebbero dovuti comportare le altre persone. E cosa ha fatto la comunità? La comunità ha assunto questo termine, ha fatto proprio questo termine, come un segno di rivalza. Ha detto, voi mi definite, o ci definite, meglio, in tal maniera, noi utilizziamo la vostra definizione per farne un vanto, ci freggiamo noi stessi del titolo che noi ci date, e così hanno eliminato la connotazione negativa, ma col passare del tempo è diventato un termine ombrello che accoglie tutte le sfumature di orientamento, di identità sessuale e quant'altro. Quindi, praticamente, raccoglie in sé tutte quelle sigle, tutte quelle terminologie che in realtà vanno a deviscerare ogni singola sfumatura. Allora, adesso entrano i panni di mia nonna che magari gli piace tanto l'arte, ma diceva che era bisogno di stacchire a parlare dell'arte di quelli obliqui. Cioè, perché raccontare quel tipo di arte? In realtà, se noi andiamo a vedere, hanno meno possibilità d'espressione, hanno avuto storicamente meno possibilità d'espressione di altre forme creative. Anch'io mi sono posta la domanda se valesse la pena incasellare, comunque dare una definizione netta a una forma artistica che di per sé è qualcosa di libero, è qualcosa non rinchiudibile in compartimenti stagni. Ho chiesto anche a degli appartenenti alla comunità, perché è appunto sorta questa domanda, soprattutto durante una presentazione, addirittura durante una presentazione di Book City. Mi è stato a posto questo quesito, mi hanno detto ma se continuate a parlarne vi rendete antipatici, noiosi, ormai se ne parla da tutte le parti. Posso fare la battuta politicamente scorretta? Prego. Non sono vegani. Bene, bene, bene così. No dai, stavo scherzando. Ho fatto il warning, il warning, il disclaimer prima. A noi cosa ci interessa chi amate? Siamo tutte persone uguali. Allora, in un futuro utopico io spero che diventeremo tutte persone uguali agli occhi degli altri, ma è me, finché non abbiamo gli stessi diritti, finché la comunità non ha gli stessi diritti, ciò è poco praticabile. E quindi la comunità stessa mi ha invitato a parlarne, la comunità stessa ha detto più si scrive e più si esternano determinati sentimenti, più si normalizza. se noi tacciamo alla fine passiamo come non detto, come sottointeso e si finisce nel dimenticatoio anche per delle cause molto più importanti che travalicano l'arte. Ti chiedo una cosa proprio sulla parola queer. Perché con la parola queer sei riuscito a fare un processo che magari con altre parole non sei riuscito a fare? Immagino la n-word, immagino tante altre parole che invece vengono ancora utilizzate come insulto e che anche la comunità fa fatica a digerire. Ma forse perché appunto è stato un processo sicuramente che è arrivato non dal nostro paese ahimè perché siamo molto indietro da questo punto di vista e poi come ho detto è stato un termine un termine ombrello che è stato accolto in varie sfumature. Io all'inizio del volume spiego proprio in lingua italiana il significato di moltissime sigle afferenti alla comunità perché secondo me c'è proprio una barriera all'ingresso che non porta ad una discussione. Io non voglio convincere nessuno io esterno e rendo comprensibile ad un pubblico il più vasto possibile ciò che sta accadendo ciò che sentono quotidianamente con ovviamente determinati intervalli perché poi succedono talmente tante cose a me nel mondo che a seconda di ciò che succede i grandi mezzi di comunicazione ne parlano e poi quando il fatto si spegne o la tensione cala si passa ad altro e molto spesso il DDL è ZAN piuttosto che altre altre altri argomenti afferenti alla comunità saltano fuori e quindi saltano fuori con la conseguenza di tutte queste sigle questi termini che a me derivano molto spesso come queer abbiamo visto da una lingua non nostra diciamo che in Italia la lingua inglese è la lingua universalmente riconosciuta che viene utilizzata nel business e in tutti gli altri campi però si hanno delle difficoltà quando uno utilizza un termine in inglese molto spesso non sa al vero significato e soprattutto la sua comprensione viene mediata da ciò che ha sentito i grandi mezzi di comunicazione e non sempre le informazioni sono corrette quindi bisogna spiegarle così poi quando una persona utilizza determinati termini anche per schernire abbiamo praticamente la prova provata cioè io ti ho spiegato cosa significa tu sei così conscio di poterlo utilizzare in un modo o nell'altro se lo utilizzi per ferire allora poi c'è liber arbitrio vuol dire che vuoi utilizzarlo in quella maniera non posso più scusarti perché non sai che cose in realtà significhi per chi ha vissuto determinate sofferenze giusto giustissimo tra me di sé appunto la Q di LGBTQI plus la Q sta per qui giusto cioè quella roba lì ok giusto poi insomma la sigla si sta giustamente ampliando sempre di più forse anche lì è utile trovare una parola perché ormai diventa un codice fiscale diventato quindi effettivamente è complicato ma questo ci fa capire la complessità e anche la bellezza in realtà di quanto è il nostro mondo adesso siamo veramente difficilmente incasellabile quindi ci sta che questa sigla sia diventata così lunga nel mondo dell'arte si devono dare dei termini alle correnti ai movimenti cioè per essere riconosciuto dalla comunità scientifica che sta dietro a questa nicchia rispetto ovviamente a tanti altri settori economici tu devi avere una definizione l'hanno avuta gli impressionisti l'hanno avuta varie correnti che troviamo poi sui libri quindi quello è un po' anche un discorso afferente al settore di cui mi occupo chiarissimo andiamo avanti però dopo una piccola pausa ma che se invece è il momento di San Giovanni è il momento della musica e poi piccolo break torniamo qui sempre con la nostra ospite Elisabetta Roncati a parlare di arte queer del suo libro e magari ci siano qualche indicazione su cosa fare in queste feste magari qualche bella mostra da andare a vedere ci saranno volentieri ma guarda ce ne sono tantissime allora adesso fra pochissimo dopo San Giovanni con Scossa Francesca Michelin storie dei chiacchiere per la Franci c'ho sempre buone parole ma dai non me ne ho accorto quattro mesi di radio mi è sempre piaciuta tutto per tutto ma non so come conduttrice come conduttrice tantissimo come cantante anche nel senso che sai che c'è il discorso con la Pausini che mi piace tanto con lo scerci a cena anche lei aveva fatto un errore da conduttrice che poi è stata lapidata difesa spadatrata non gli vengraziare no perché tu non sai Elisabetta c'è questa cosa che io amo tanto la Pausini ma se non canta ce l'amo come persona penso che io ci vorrei uscire gli ho detto anche ho fatto un appello anche qui in radio Laura andiamo anche al karaoke insieme ma non cantiamo le tue canzoni cantiamo canzoni di altre lei è brava a cantare mi piace tantissimo le canzoni di Francesca Michelin mi piace tantissimo è una simpa capito la Pausini è una simpa perché per forza cantarmi le tue canzoni non può secondo me questo appunto appunto bravo invece se usciamo insieme non ti faccio lavorare va bene apprezzo la persona non apprezzo l'artista ma deve essere giusto come ragionamento apprezzo la persona l'essere umano non frega che cosa scrivi cosa canti va bene invece apprezzo arte parte e persona di Elisabetta del suo libro appunto di cui stiamo parlando allora arte queer un libro che racconta appunto prima di tutto mi dicevi diviso in due parti no la prima parte dove racconti un po' cosa vuol dire queer e cos'è l'arte queer giusto si la prima parte dove appunto spiego i termini afferenti alla comunità faccio un breve e breve racconto sempre scritto in maniera chiara comprensibile adatta al grande pubblico racconto delle episodi fondamentali per la storia della comunità stessa come i moti di Stonewall come ahimè la piaga dell'AIDS a cavallo fra anni 80 e 90 spiego anche le differenze perché io stessa a volte usavo il termine IDSH e HIV ahimè come sinonimi in realtà sono due fasi differenti della malattia c'è un po' di sensibilizzazione anche in questi confronti poi si passa a un breve escurso sulla storia dell'arte attenzione non solo con artisti che fanno o che hanno fatto meglio parte della comunità ma anche con se vogliamo proprio mettere puntini sulle I persone eterosessuali che in realtà hanno prodotto comunque delle opere dei lavori dei cicli ad esempio di fotografie sulla comunità sugli appartenenti alla comunità in altre decadi storiche più lontane dalla nostra e poi si passa al contemporaneo poi tengo a sottolineare nel senso storia dell'arte ma adesso chi ci sta vedendo la vede chi ci sta ascoltando l'ascolta sicuramente non sarà pallosa lo spero sicuramente è una roba che anzi vive in voglia di andare e mangiarvi quelle pagine poi si passa invece agli artisti a presentarci quanti artisti alle artisti e agli artisti sono 50 50 in realtà la rosa di candidate e candidati era molto più ampia però ci sono state delle persone che non hanno addirittura voluto essere incluse perché avevano paura di essere comunque inserite in un volume in cui si parla di arte queer io ho sempre detto che non è un libro militante non è un libro politico assolutamente lungi da me è stato pubblicato da Rizzoli però mi hanno fatto anche presente che utilizzare addirittura nel titolo il termine queer significa prendere una posizione molto probabilmente è vero anzi non lo posso negare però come diceva Carla Lonzi il personale politico quindi bisogna bisogna a volte mettere puntini sulle i anche qui se facevi un libro di ricette per Natale lo chiamavi ricette per Natale non ricette per le feste che arrivano a dicembre cioè nel senso adesso va bene tutto va bene cercare i giri di parole le perifrasi però se arte queer qui re non è che potevi e anche all'interno dei 50 creativi e creative viventi operanti attualmente c'è un po' un mix ci sono degli artisti delle artiste più conosciuti che quindi possono essere di richiamo al grande pubblico magari perché hanno fatto delle campagne pubblicitarie molto spesso con dei brand di moda perché devo dire che il settore del fashion è molto più avanti da questo punto di vista molto più aperto molto più abituato a determinate discussioni e poi invece ci sono dei ragazzi delle ragazze ultra contemporanee molto più giovani come ho fatto a sceglierli e a sceglierle perché molto spesso mi viene fatta questa domanda dovevano si è fatta magari un milione di euro anche tu come fanno tutti gli influencer magari ma invece no come hai fatto dovevano avere almeno un'opera d'arte già inserita in delle collezioni pubbliche cioè in dei posti in cui una persona possa coi propri occhi andare a vedere dal vivo il lavoro dell'artista e anche qui formarsi una propria opinione io posso descrivertelo ci sono ovviamente a corredo di ogni escursus sugli artisti un'opera caratterizzante la loro poetica però è fondamentale che andando magari in viaggi di piacere in viaggi di lavoro si capita magari in un determinato museo e si ha la possibilità dal vivo di vederle se non avevano un'opera in collezioni pubbliche io non mi sono sentita per questo principio che ho scelto di inserirli al momento all'interno della pubblicazione se tu hai soldi per comprati un'opera e tiratela solo sul caminetto in casa non vai sul libro giustamente posso dire che è un requisito minimo giusto sì mi sembra giusto non credo utilizzato da tutti ma in realtà sai era un po' difficile perché questa è la prima pubblicazione in lingua italiana su queste tematiche che unisce creatività equirness e quindi non avendo dei precedenti nel bene o nel male non avevamo anche dei termini di paragone o dei metodi scientifici con l'editore per creare una base da cui partire cioè abbiamo dovuto rimboccarci le maniche e fare tutto da sole inventarsi anche un metodo qui in questo caso esatto ottimo il libro è a firma Elisabetta Rocati non usi il tuo pseudonimo su Instagram che ricordiamo chi ti vuole seguire su Instagram artnomademilan artnomademilan con tutti i soldi che ci pagano per stare qua la mattina non è che possiamo rubare i soldi a Crystal Radio no sia mai infatti non vorrei mai invece non gli ha rubati i soldi non lo so no no non li ha rubati non li ha rubati non ha rubato soldi però fa tanto parlare di sé però gli vogliamo tanto bene a Britney Spears con Baby One More Time Spears Baby One More Time scusate ridevamo perché insomma a fuori onda si chiacchiera si ride si scherza in maniera goliardica in maniera goliardica e subito con la nostra ospite di oggi Elisabetta Roncati che ci stava presentando il libro arte queer Elisabetta dicevamo lo troviamo ovunque sì nelle librerie negli store online essendo edito da Rizzoli è facilmente reperibile diciamo salutiamo Rizzoli noi salutiamo sempre chiunque citiamo noi salutiamo è una sorta di perché possiamo dirlo perché siamo un po' dei paracure sì siamo un po' siete educati avrei detto io ok sono stato un po' forse sono andato un po' oltre te devi piantare e ascoltare a certa gente in radio ma non c'entra niente che dice le parolacce poi vieni qua a dirle qua ma non è vero saluta Cruciani ricordiamo ricordiamo che tra tutte e due quello che dice il maggior numero di parolacce è lui lui chi tu non ti vedono a casa ci possono vedere su Milano News ma chi ci ascolta su questa radio non ti vedeva potrete tranquillamente constatare io non dico mai parolacce no allora Elisabetta prima di salutarci appunto ricordiamo come vi hai detto il tuo libro troviamo ovunque store online librerie e tutto tu un po' però salutarci andare via senza darci qualche dritta su come nutrire la nostra mente i nostri occhi in questo periodo natalizio ovviamente su Milano sì sa che noi no ma io potevo spaziare sul leone fuori da Milano c'è l'Antartide sì sì un muro come è dentro di spade che c'è the winter is coming e basta qua come tempo però ragazzi anche a Milano oggi steppa siberiana oggi finalmente c'è la neve a Milano c'è la scighera in 24 10 gradi però questo è tutto un altro discorso dicevamo allora cosa possiamo allora sicuramente se vogliamo andare anche su qualcosa di gratuito che fa sempre piacere anche per i nostri ascoltatori fa piacerissimo si rinnova anche quest'anno la manifestazione natalizia comunque l'evento dedicato al Natale con l'esposizione di un'opera di un grande capolavoro in maniera visitabile in maniera gratuita a Palazzo Marino specificatamente in Sala Lessi quindi in Piazza della Scala è stata proposto e si potrà vedere fino al 14 gennaio 2024 il Battesimo di Cristo del Perugino per ricordare anche 500 anni dalla scomparsa del grande artista quindi questa è sicuramente un'occasione da non perdere ma cosa è successo quest'anno cosa ha fatto la nostra magnifica municipalità ha deciso di ampliare l'iniziativa quindi negli restanti anzi in tutti gli otto municipi del capoluogo Meneghino saranno visitabili gratuitamente dal pubblico altre opere d'arte che non arrivano in realtà da prestiti istituzionali al di fuori della nostra amata Milano ma arrivano dalle collezioni civiche e per la prima volta sono state esposte nelle biblioteche di quartiere e comunque in tutti degli altri centri di aggregazione appunto nei municipi quindi è un po' Natale diffuso che bello questa è una delle poche cose diffuse che può piacermi mi piace vai nel tuo municipio e cerca infatti mi piace mi piace complimenti allora vedi che il comune fa le cose buone ogni tanto e poi voglio aggiungere anche un'altra chicca anche se ahimè non è più visitabile gratuitamente ma lo era martedì e mercoledì quindi ieri ma è stata inaugurata una nuova sala nel museo civico di storia naturale quindi quel bellissimo edificio che uno trova nei giardini di Corso Venezia con quell'architettura che davvero colpisce perché ciò perché il percorso è stato un po' rinnovato e si è giunta a questa sala sull'evoluzione della specie umana quindi hanno fatto delle attività ci sono state delle conferenze la presentazione al pubblico non potete più visitarlo gratuitamente però sicuramente è qualcosa di estremamente carino innovativo e diverso anche per portare ad esempio i bambini il museo attira tanto a volte non è granché visitato mi duele dirlo dagli operatori di settore che tendono di più a visitare delle mostre temporane oppure degli argomenti attinenti ai grandi artisti il museo di storia naturale viene sempre un po' visto come qualcosa ibrido però offre tanto voglio fare un appello vai fai un appello i musei perché alla fine sono due o tre quelli che durante i cinque anni di squadra elementare fanno visitare poi andateli a rivedere dopo perché sono completamente diversi molto banalmente perché tu hai occhi diversi se li vedi da adulto piuttosto che da adulto dopo il museo della scienza della tecnica di Milano credo di andare a cercare una volta all'anno esatto io mi riferivo per esempio a quello che è un capolavoro e posso dire può essere molto propedeutico agli altri musei inizio che tu vai lì vedi io poi no come sono i trenini le macchinine queste robe qui i sottomarini bravi fai il maschietto alfa della situazione benissimo bravo un applauso dopodiché però magari ti viene voglia e scopri che invece nei musei hanno delle robe bellissime da vedere dei pezzi da 90 che sono veramente qualcosa di stupendo Elisabetta grazie a voi no ti ringraziamo a te grazie mille ricordiamo appunto Elisabetta Roncati con Arte Queer in ogni libreria store online ovunque vogliate seguitela anche su Instagram poi comunque troverete tutti i vari commenti anche nei reel c'è tutti i commenti tag nei reel e tutto quello che ne conseguirà a questa intervista spero di rivederti presto buone feste grazie anche a voi e buon anno speriamo con un po' più di tranquillità e di pace per tutti va bene ogni anno lo diciamo poi sempre peggio no no dai no no speriamo davvero questa volta impegniamoci impegniamoci un attimo a crederci almeno così potrebbe aiutarci questo andiamo avanti con un po' di musica e poi torniamo qui con la nostra stigla per salutarci grazie a tutti grazie a tutti